Madonna, sono fortissimo Alexa, dimmi che sono fortissimo Ma chi ti ha chiesto la barzelletta? Ma porca Perché quella pepata le fa stranudire? Ho fatto passare la voglia di giocare Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy Che belle le battute di Alex Migliorano giorno dopo giorno Poi tra l'altro, chi ti aveva chiesto niente? A contare a barzelletta la foca Ma te lo lasciando questo ragazzi Che tanto ormai lo sappiamo che quella lì fa cosa vuole Purtroppo non trovo la risposta alla domanda Ecco appunto, ma a caso? Oggi ragazzi, preparatevi Perché stiamo per avere tutti Un attacco di diabete estremo E perché vi starete chiedendo? Perché? Tutti quanti in casa hanno un animale Tranne me Non volevo un cagnolino picco Quanto sono belli gli animali E oggi Andremo a vedere i cuccioli Cioè Miniatura Però ragazzi lo sapete Prima di cominciare Vado a salutare Maria Tammaro Nicola Borriello Pedro Divertente E Anna Rama Ciao ragazzi E il vincitore di oggi Anna Rama Grandissima Ragazzi mi raccomando se volete essere salutati Vi basta scrivere un commento divertente Sotto a questo video Bene ragazzi Gli devi andare a vedere questi cucciolotti incredibili Prepariamoci eh E io già sento la dolcezza che cresce dentro di me Perfetto ragazzi Ed eccoci qua No vabbè Allora Ecco di che cosa stavo parlando Dei porcellini d'India che stanno Andando sul triciclo Col caschetto No vabbè È la vita Cioè ma voi vi state rendendo conto di che cosa stiamo guardando Ma li voglio adesso Ma per forza Quanto belli Non ho parole veramente Il piccolo di una tartaruga No vabbè Ragazzi Ma che meraviglia Io mi sto sentendo male ma veramente No vabbè È una lontra che Porta gli oggetti Con quelle mani Mi sto per mettere a piangere Allora Se non si fosse capito Sono una persona Leggermente sensibile Cioè Vedere queste cose per me veramente È troppo Mi sto sciogliendo dentro No vabbè Non può esistere Niente di più bello È carino È puccioso Io non so dove sei Ma ti troverò e ti accarezzerò Delle ore No vabbè È bellissima questa cosa ragazzi Quanto è tenere Ma come dorme Probabilmente ve ne sarete già accorti Ma con le cose tenere Divento ancora più coglione Dai però non si può avere una reazione diversa dalla mia Ma è Oh mio Oddio con queste zappette Oddio E questo è un pochino meno carino Si chiama pesce brufolo Vedete Ha tutti questi pozzi che escono Questo non mi piace moltissimo Non è molto carino L'ho scognato Questo sì però dai Che ha la particolarità Di potersi mettere un sacco di arachidi in bocca Ma che roba No vabbè Ecco questa È un'immagine Tenera Ma allo stesso tempo strana C'è Una tartaruga Che è poggiata Insieme a dei porcellini Su un cavallo È fantastico Tutto questo Lui poverino è lì Che probabilmente è svenuto Madonna Ma perché tutti addosso Non ce la faccio più Ma quando vi tolci i porcellini Oh mio dio Quel musetto rosa Vabbè ragazzi Io mi sto sentendo male Guarda questo È impaziente È probabilmente il suo compleanno È malatorta E io la sto aspettando No vabbè Io mi sto sentendo male La capretta Probabilmente sta pensando Che questo In realtà è del cioccolato Ma soprattutto Perché questa capretta Ha un maione E non penso Le serva più di tanto Guarda il riccio Che prende il sole Con salvagente No C'è un uccellino Che riesce a fare skate Cosa che io non so fare Persino un uccellino Riesce a fare più cose di me Rendiamoci conto In che stato sono Io non ho parole Ma che cos'è È una pallina di pelo Ma è un topolino No vabbè ragazzi È il diabete alle stelle Guarda che roba Un altro porcellino Di te che si fa il bagno Fiero Cioè proprio Non gliene frega nulla Bagnami tutto Io mi sento male Adesso cado per terra Svengo Il piperone È tipo La cosa più dolce A questo mondo Guarda quest'altro Che cos'è Vorrei abbracciarlo Ma cosa fa Sta pregando Tipo Quanto sono stato bravo È una nutria Sì lo so ragazzi Sembra un idiota Incredibile Però io non ce la faccio Cioè Fa proprio tipo così Ma cosa sta succedendo Ua no Ai gatti No Io non ce la faccio Oh che musetto Ecco Se non si fosse capito Io ho un debole Per i gatti Soprattutto Per i cuccioli Che musetto La madre non ce la fa più È sfinita Tipo Basta Voglio dormire Lasciami stare Niente Lui continua Ecco Si è svegliato Però mi volete fare del male Madonna santa Voglio un cucciolo Di gattino Adesso Lo voglio qui Io veramente ragazzi Adoro gli animali Poi quando ci sono i cuccioli I pazziscoli Non ce la posso fare Che bellezza Guarda che gli rompe le scatole Lo morde Non lo caga l'altro Madonna Anche mentre fanno la pipì Sono dolci Così Ah Ah Questo è il topo volante È fantastico Riesce a volare Cioè Planare Guarda che musetto Ecco Qui Abbiamo un classico esempio Di taxi abusivo C'è questo cinghiale Che va in giro A raccattare gli animali Poverino però Ma non reagisce nemmeno Tipo Fate che cavolo volete Guarda questa Ma come Ma sto povero gatto Non sta capendo nulla Dov'è Ci sono quegli animali Più furbetti Che dico Sono scemo e cammino Va bene Io direi di concludere qua Prima che veramente Cado per terra Per la troppa dolcezza Fatemi sapere Che cosa ne pensate voi Di questi cuccioli E se a casa Avete qualche animale Cane Gatto Qualsiasi cosa Comunque se il video vi fosse piaciuto Vi invito a lasciare Un bellissimo like Vi ricordo che nella descrizione Dovrete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook E quindi se vi va Seguitemi su Instagram Accetto un bel mi piace Alla pagina di Facebook Iscrivetevi al canale Per supportarmi E ora vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi